si dovrebbe da comunarla al cambio automatico perché con il cambio manuale faccio le stesse cose che posso fare con il cambio automatico ma faccio tanta fatica e il MN365 è identico potrei ottenere le stesse cose che ottengo con MN365 andando a destra e a banca dentro tutte le console di amministrazione dei sistemi però farei veramente tantissima fatica con MN365 schiaccio un bottone e parto